una leggenda racconta di una città sospesa nello spazio e nel tempo in un'epoca di cui si è perso il nome degli uomini in fuga cercavano una terra dove fondare una città finirono in un labirinto di isole e canali abitato da pesci e uccelli migratori ma senza terra solida su cui costruire così continuavano a cercare e le loro case erano barche un giorno una delle loro barche si erano sopra di essa nacque la prima casa alcuni dicono che si tratti di una storia inventata e che quella città non sia mai esistita altri invece sostengono che esista ancora e che i suoi abitanti l'abbiano semplicemente spostata tantissimi sono i viaggiatori che l'hanno descritta in tutte le epoche ed il suo nome è diverso in ogni lingua del mondo grazie a tutti